fantastiche, rombanti, inarrestabili, sicure. Le BMW a due ruote sono spesso un sogno, in alcuni casi, come quello della R1250. Oggi sono in grado di accessoriarsi e esser più. Se la parola d'ordine nel settore delle produzioni di auto e moto è, da sempre, e in questi ultimi anni ancora stiamo facendo riferimento, come molti addetti ai lavori di sicuro avranno avuto modo di sapere per tempo, del cosiddetto restyling della BMW R1250, il gioia stiamo facendo ricche novità porta in dote. Prima di tutto, adesso è ancora di più accessoriata, ancora più potente a livello di motorizzazione, e non perde nulla in termini di stile e aerodinamica, che novità porta in dote. Tra le altre cose, non stiamo parlando di un modello che tutti, a prescindere in qualunque momento, avranno la facoltà di potere. Come mai? E presto dè. Il punto è che questo nuovo modello, dal nome Ultimate Edition è in sostanza il rifacimento, ma in numero limitato, della BMW R1250. In pratica è una nuova versione riveduta e corretta che avrà, in particolare, oltre a delle novità spiccate, una tiratura a dir poco limitata. Saranno appena 2100 i modelli che, in tutto il mondo, potranno essere ottenuti dai. Questa moto sarà contraddistinta da una linea di design che esteticamente la rinnova, la rende più accattivante e soprattutto fa in modo di strutturarla con delle dotazioni escludi. La R1250 X Ultimate Edition in primo luogo mette in file delle peculiarità che vogliono essere, e lo sono, degli omaggi ai 40 anni e passa che la GS lascia in la R1250. Una storia fatta di KM, di tradizione, di sicurezza, di affidabilità, miglioramento dopo miglioramento, anno dopo anno, si è arrivata. E così, la Special Version si fa più ricca, viene ad esempio in preziosita di rifini rute speciali, con un miglioramento dei pacchetti sportivi che, a seconda dei casi, rende la moto sportiva quando serve perfetta per l'off-road. La sicurezza è al primo posto, ma anche la praticità alla guida come per esempio nel caso dell'uso del cambio assistito elettronicamente, il sistema Touring, il Cruise Control che stabilisce la sicurezza è al primo posto, ma anche la praticità alla guida come per esempio la versione Ultimate potrà essere in questo senso provvista di supporti aggiuntivi per chi ama viaggiare in moto, anche se di serie a già davvero moltissimo. La versione Ultimate potrà essere in questo senso provvista di supporti aggiuntivi per il prezzo quale